Salve gente, benvenuti su Melting Top. Io sono Blick e in questo video parleremo di make up, anzi di pessimo make up. Il trucco può essere il migliore amico di una donna e anche il suo peggiore incubo. C'è un motivo per cui le celebrità utilizzano truccatori professionisti ed è perché applicare il make up in modo corretto è molto più difficile di quanto sembri. Come vedremo in questo video infatti anche dei volti apparentemente attraetti possono rapidamente trasformarsi in maschere più o meno inquietanti. Prima di iniziare vi ricordo che potete sostenerci con un mi piace e iscrivendovi al canale. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.